Buonasera dalla redazione, secondo appuntamento di questo sabato prima della pausa di Pasqua. Nuovo incontro con il commissario per il distesto idrogeologico in Sicilia da parte dell'amministrazione comunale sulla vicenda del viadotto Can Salamone. Con il progetto definitivo consegnato nei mesi scorsi c'è da integrare fondi messi a disposizione anni fa e adesso insufficienti per esploitare la gara d'appalto. Il vice sindaco Gianluca Fisco si dice fiducioso. Il commissario Maurizio Croce gli ha riferito che entro l'anno verranno aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza del viadotto. Fisco appare fiducioso, lo erano anche i suoi predecessori, le competenze per l'intervento previsto in questa opera pubblica sono della regione siciliana e dallo Stato non c'è il decreto che riguarda l'integrazione dei fondi. Starada Statale 115 chiusa per diverse ore al transito veicolare prossimo martedì 11 aprile per il passaggio della prima tappa del Giro d'Italia di ciclismo. Il tratto che riguarda Sciacca sarà chiuso al transito di tutti i veicoli dalle ore 11 alle ore 15. La tappa partirà da Marsala, si concluderà ad Agrigento. Nel carcere di Sciacca è stata realizzata una sala colloqui con la riproduzione sui muri della piazza cittadina e dei colorati personaggi Disney. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione dei bambini che con il resto delle famiglie vanno a trovare i papà detenuti in un ambiente il meno traumatico possibile. Iniziativa realizzata dall'associazione Avuls con i volontari Calogero Cantone e Calogero Cucchiara, insegnanti dell'eceo artistico in pensione e naturalmente con l'autorizzazione della direzione carceraria. Partito il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di definizione agevolata delle cartelle. Il termine scade al 30 aprile 2023. Lo ha comunicato l'Agenzia Entrate e Riscossione che consiglia di attivarsi in anticipo per evitare il rallentamento dei sistemi informatici per l'alto traffico degli ultimi giorni. La rottamazione Quater riguarderà i debiti affidati in riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Sarà possibile pagare l'importo delle cartelle in un'unica soluzione o in un massimo di 18 orate in 5 anni. Proseguono a sciacca i riti della settimana santa, oggi giornata di riflessione e meditazione domani, giorno dedicato all'incontro di resurrezione in piazza Scandaliato e poi in piazza Gerardo Noceto a San Michele. Iniziative che tornano dopo il periodo di chiusura a causa dell'emergenza sanitaria, una tradizione ripresa e che segna il definitivo ritorno, così speriamo, alla normalità. È tutto dalla redazione appuntamento alla prossima edizione e naturalmente buona festività di Pasqua. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.